Quello che noi chiamiamo legalità deve passare sotto il nome di normalità. Noi siamo assetati di normalità. Noi vogliamo essere un paese normale. Noi pretendiamo che nessuno più possa mettere i piedi e calpestare la dignità che nostro Signore ha voluto regalare a tutti quanti noi. Siamo assetati di dignità, di libertà, di normalità. Con queste parole Don Maurizio Patriciello, parroco di Caevano, si è rivolto a coloro che in piazza Salotto a Pescara sono accorsi per vedere da vicino i resti della Quarto Savona 15, distrutta in quella che è passata la storia come la strage di Capaci, in cui il 23 maggio del 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Di Cillo. Vittime della mafia, ma simbolo della lotta per la legalità che nel trentesimo anniversario dell'attentato assume un significato ancora più importante e che il premio Borsellino veicola ogni anno soprattutto verso i giovani studenti, cittadini di domani, come racconta Graziano Fabrizi, docente e membro del premio Borsellino che in piazza Salotto ha condotto l'evento. 500 kg di tritolo non hanno fermato la Quarta Savona 15 che continua a macinare i suoi chilometri verso una nuova cultura della legalità. Cosa si può raccontare oggi ai giovani di questa pagina di storia? Educare a una nuova grammatica della legalità per capire ciò che è accaduto affinché non debba riaccadere, ma istruire e in qualche maniera anche formare i ragazzi affinché possano accorgersi all'interno del proprio territorio di quali sono i segnali anche soltanto dell'atteggiamento illegale. I rasti della Fiat Chroma, che all'altezza del chilometro 5 dell'autostrada Palermo-Mazzara del Vallo fu investita dalla deflagrazione del tritolo, sono stati scoperti alla presenza di autorità, studenti e cittadini. L'obiettivo della mostra, curata dal premio Borsellino in collaborazione con l'Associazione Società Civile, la Polizia di Stato, l'Associazione Nazionale Magistrati d'Abruzzo e l'Associazione Falcone Borsellino, è non solo quello di raccontare una triste pagina di storia, ma anche il sacrificio di quanti in quell'attentato mafioso persero la vita in nome della giustizia. Come ribadiscono anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, e Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro, che morì nella strage di Capaci. Per noi è un onore avere i resti di questa macchina perché rappresenta un simbolo per l'Italia, è la nostra storia, la nostra storia è più brutta, ma anche il nostro futuro di democrazia e di libertà. Per questo qui ci sono questi ragazzi che devono imparare cosa vuol dire mantenere la libertà, perché Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, i tre uomini della scorta, sono morti e si sono sacrificati per la giustizia, per la patria e per fare in modo che noi potessimo vivere liberi. Tina Montinaro, 30 anni dopo la strage di Capaci, cosa si può dire ai ragazzi di quello che è successo? Innanzitutto bisogna raccontare quello che è successo, perché devono sapere anche perché i nostri ragazzi devono essere diversi da noi, devono fare in modo che certe cose non accadano più. Ecco perché io poi parlo ai giovani, ma non per avere la commiserazione di qualcuno, non voglio una commiserazione di nessuno, perché io sono una donna non orgogliosa di più di quello che era mio marito, perché mio marito ha fatto il poliziotto fino in fondo con un altissimo senso del dovere. Però devono sapere quello che è successo, devono sapere che comunque ci sono 30 anni di processo e che comunque cerchiamo ancora la verità.